Il Centro di Reggazione Circolarci Cinema Vecchio nasce nel 1998 grazie alla volontà di un gruppo di giovani che volevano ritrovarsi in un posto al di fuori dei soliti bar. In accordo con il Comune è stato occupato un ex cinema e lì si è partiti con varie attività. Una delle principali attività è l'organizzazione dei concerti. Questo ci ha permesso negli anni di farci conoscere in tutta Italia, di entrare nella rete Arci Real e di organizzare numerosi concerti sia con gruppi meno o più importanti della scena indipendente italiana. Attorno a questa attività musicale sono nate diverse attività culturali, ricreative, educative che hanno fatto in modo che il cinema vecchio avesse sempre di più in questi anni una vera importanza sul territorio e diventasse un contenitore dove anche altre associazioni potevano fare le loro attività. Uno scambio che è stato molto importante in questi anni, proprio uno scambio culturale, generazionale, interraziale. E questo ha permesso a tutti i giovani, i meno giovani che frequentano il circolo di crescere insieme e di avere sempre più voglia di organizzare cose nuove. Al cinema vecchio si ha l'ambizione di fare politica di giovanile o come amo dire io di fare educazione, che sicuramente è una parola molto impegnativa, che vuol dire tante cose. Io proverò a dire la mia. Secondo me educazione vuol dire accompagnare i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze verso l'età adulta, orientando e dirigendo con atteggiamento di ricerca e democratico questo percorso educativo. E il CVK diventa il luogo di questa possibilità di diventare adulti, che vuol dire diventare responsabili di un'idea di mondo. Al cinema vecchio si lotta con tutte le energie per costruire, sempre con questi bambini, con questi ragazzi di cui vi dicevo prima, una realtà trasformata. E mi piace immaginare il cinema vecchio come una palestra dove ci si allena per diventare cittadini, per diventare comunità. E tutto questo grazie al gioco, al teatro, alla radio, all'orto, alle amicizie, ai conflitti, attraverso i diritti e soprattutto imparando anche delle responsabilità. Ecco, questo è il mio disegno di cinema vecchio. Il Circo L'Arto Cinema Vecchio con questa campagna mira a raccogliere i fondi necessari al completamento di questo progetto di riqualificazione dei propri locali, con questi lavori finalizzati al raggiungimento di obiettivi artistici e strutturali di grande rilievo, come la costruzione di barriere acustiche, l'acquisto di complementi unifughi e un aspiratore di fumi antincendio. Non vogliamo che il nostro centro cada in un silenzio eterno. Il cinema vecchio deve continuare a suonare, ma ha bisogno della vostra voce, del vostro supporto per mettersi a norma e lottare contro la chiusura intimata dalla pubblica amministrazione. Da metà aprile è sulla piattaforma di MusicRacer la nostra prima raccolta fondi online. Vivete con noi questa ristrutturazione, supportateci passo dopo passo attraverso la pagina Facebook del Cinema Vecchio, contattateci, raccontateci le storie vissute tra le mura di questo circolo e fateci sentire che anche voi volete trasformare la nostra struttura in un edificio migliore sotto il profilo dell'impatto ambientale, della sicurezza, della ricettività. Il circolo Arci Cinema Vecchio ha già investito tanto di suo, 15 anni di impegno, centinaia di migliaia di euro impiegati per garantire un'educazione migliore per centinaia di ragazzi l'anno. Manca poco, ma da soli non ce la possiamo fare. Entro giugno 2014 dobbiamo raccogliere i 15.000 euro necessari per bloccare il procedimento amministrativo di chiusura. Ci è sembrata un'ottima opportunità tentare la strada del finanziamento attraverso il crowdfunding per rendere la richiesta virale per arrivare nelle case di tutti coloro che sono cresciuti nel nostro circolo che hanno assistito a centinaia di concerti o che hanno anche soltanto sentito parlare di questo circolo d'avanguardia. Dal 15 aprile il nostro slogan sarà Countdown CBK0 o si rinnova o si chiude. Noi iniziamo i lavori. E voi? Noi abbiamo fatto veramente quello che potevamo per il cinema vecchio fatelo anche voi. Una situazione importante che vale supportatela. Il cinema vecchio tutta la vita. After the United City.